Desi Osaku ha preso proprio la mira, 58 e 73 sulla linea, anzi di più qualificazione diretta, Q maiuscola, sei in finale agli europei? Guardate, non so che dire, ho ancora i brividi adesso, ci speravo ma mai mi sarei aspettata di riuscire ad arrivare in finale con la Q maiuscola. Q maiuscola vuol dire che hai fatto il minimo per poter entrare in finale, nel senso che non hai tipo le ansie del ripescaggio posizione eccetera. Io sono in finale, cioè, assurdo. Desi, che cosa c'era dentro quel lancione che tra l'altro di prima mattina non è nemmeno lontanissimo dal tuo raccord italiano under 23? Ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia, felicità, poi avevo il mio gruppo che è tutto da Torino e è venuto a farmi il tifo. Che cosa c'era scritto sullo striscione? Forza Desi, throw far or go home, quindi non volevo andarmene a casa, l'ho dovuto lanciare lontano. Ancora una volta le tue trecine, ancora una volta il tuo sorriso, è bello rivederti così. Grazie, come ho già detto prima, sono felicissima. Non mi importa ciò che è successo prima, adesso si guarda solo avanti e speriamo di divertirmi anche in finale. Divertiamoci. Assolutamente, sempre. Grazie.